Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è lunedì 16 gennaio 2023, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV, iniziamo questa mattina una nuova giornata, iniziamo anche una nuova settimana, ci stiamo inoltrando verso la seconda metà del mese di gennaio e comincia il maltempo, lo vedremo dopo nelle previsioni atmosferiche. Intanto passiamo come sempre dall'almanacco del giorno. Ecco il santo che si festeggia oggi, è San Marcello Papa. San Marcello visse ai tempi di Diocleziano, un imperatore che attivò una crudele persecuzione contro i cristiani. Marcello fu molto duro con coloro che rinnegavano la loro fede per avere salva la vita, soprattutto con i traditori, meno lo fu per coloro che erano persone deboli, insomma, che non lo facevano proprio per egoismo personale. Egli stesso patì la persecuzione e morì in esilio. Questo per quanto riguarda San Marcello. Vediamo le previsioni del tempo. Oggi è tornata la pioggia e stamattina pioggia sulla provincia di Pesaro Urbino. Vediamo che però anche nelle Marche, in tutta la regione, ci sarà un tempo generalmente instabile, con piogge e rovesci. Salvo nel primo pomeriggio, con una pausa, lì ci saranno delle schiarite. Le temperature massime arriveranno sui 13-14 gradi, le minime invece si attesteranno sugli 8 gradi. I venti sulle coste spireranno con una tensione media da ovest-sud-ovest, nell'interno invece con una tensione media da sud-ovest. Le temperature sono ancora in calo, il mare oggi è mosso. Apriamo i giornali a partire dal Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano. Vediamo qui il titolo. Purtroppo la cronaca è ancora drammatica. Dopo la tragedia che si è verificata nella stazione di Fano, dove una donna si è gettata sotto il treno, oggi abbiamo purtroppo un incidente stradale. Falciato è ucciso sulla superstrada, attraversava verso la stazione Agip. È stato falciato e ucciso mentre tentava di attraversare la superstrada Fano Grosseto. La sua auto era rimasta in panne, era finita la benzina. L'uomo si stava recando ad un distributore per cercare appunto di rifornirsi oppure per chiedere aiuto. Attraversava la strada verso la stazione di servizio di Fossombrone Est. Purtroppo, purtroppo è arrivata un'altra auto, una Land Rover, su cui viaggiava in direzione Monte. Monte, su cui viaggiava in direzione Monte. Purtroppo lì è successo l'incidente. Un incidente veramente terribile. I soccorritori, quando sono arrivati, hanno mostrato raccapriccio per quanto riguarda lo stato del corpo che hanno trovato riverso sull'asfalto. Ai soccorritori del 118, dice l'articolo, si è presentata la luce delle torce elettriche, una scena raccapricciante per le gravissime lesioni subite dalla vittima morta sul colpo. Nella serata di ieri, l'uomo, visibilmente anziano, non era stato ancora identificato, in quanto non aveva con sé alcun documento di identità. Dalla carta di circolazione dell'auto risulta che il proprietario è un'ottantenne della provincia di Rimini. È stato rintracciato il figlio, ma ovviamente si attendeva l'identificazione. Qui vediamo delle foto per quanto è accaduto. E notte si vede poco. Comunque ci sono i soccorritori della polizia e del 118 che sono intervenuti durante l'incidente. Ieri vediamo anche come riporta la notizia il resto del Carlino. Il resto del Carlino. Vediamo qui il titolo. Camminava in superstrada, travolto da auto e ucciso. È successo vicino all'uscita di Fossombrone, vittima a un pensionato di circa 80 anni. Aveva finito la benzina nella sua vecchia Land Rover. L'identificazione è stata difficile non avendo con sé né patente né carta di identità. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'automobilista alla guida della Evoque ha sentito solo un forte colpo al paraurti. La Evoque è l'auto che ha investito, appunto, l'anziano. Ha sentito solo un forte colpo al paraurti, come se avesse investito un animale, magari un cinghiale, pensava. Di lì a poco si è fermato in sicurezza in una piazzuola. È tornato indietro per sincerarsi che cosa avesse colpito. Però si è accorto che nell'asfalto c'era una scarpa. Di qui il dramma, di qui la tragedia. Ha capito di avere investito un uomo. E purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare. Vediamo le altre notizie, sono più leggere. Ieri c'è stata la benedizione degli animali a Fano, in piazza 20 Settembre, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate che si festeggia domani. Ritorna questo rito dopo due anni, dopo la pandemia che non si è tenuto negli anni scorsi. E ieri subito una grande affluenza di proprietari di cani. C'erano solo cani, probabilmente. Una volta c'erano anche asinelli, c'erano pesci rossi, c'erano uccellini. Questa volta c'erano cani e soprattutto c'erano infatti l'iniziativa è stata organizzata dalle Giacche Verdi, insieme alla Protezione Civile del CB Club Enrico Mattei e dalla Sea Rescue School K9 Cinofila Salvataggio in Mare, l'associazione K9 che adestra i cani per il salvataggio in mare. Poi c'erano anche altre associazioni. Ieri in piazza c'era Fidomania e c'era Fano Cuore. Ma c'erano soprattutto i proprietari di cani, c'era un concerto di abbae, di latrati, ma erano latrati pacifici ieri in piazza 20 Settembre dove sono stati distribuiti biscotti, panini e carote per i cavalli. La benedizione degli animali è stata effettuata da Don Giorgio Giovanelli, paroco del Duomo, che ha definito gli animali compagni di viaggio del creato, proponendo un motivo di riflessione sul rispetto ad essi dovuto. E dobbiamo dire che negli ultimi anni c'è stata una grande sensibilizzazione verso gli animali. Moltissimi, moltissimi cittadini fanesi hanno con sé un compagno, un cane. Lo tengono in casa, lo tengono poi, gli fanno fare delle passeggiate giornaliere. E questa sensibilizzazione ha fatto sì che addirittura il corpo della polizia locale creasse una pattuglia apposita per il controllo del benessere degli animali. E proprio nell'articolo pubblicato oggi dal Corriere Adriatico c'è una sintesi dell'attività svolta da questa pattuglia, che è guidata da sovrintendente capo Roberto Mango. Sono state 120 le segnalazioni che ci sono state inviate nel 2022, ha detto Mango. E sono state elevate 35 sanzioni. Sanzioni di vario tipo, per cani vaganti, non tenuti sotto controllo dal proprietario, per cani tenuti senza guinzaglio o per mancata iscrizione all'anagrafe canina. Proprio la settimana scorsa è stato inaugurato anche un servizio in abiti civili che ha portato alla notifica di tre sanzioni. Tutte a persone che hanno lasciato vagare il proprio animale in area pubblica senza guinzaglio. Insomma, gli animali di solito si dice ma sono mansueti e non fanno male a nessuno. In realtà basta poco, basta una provocazione perché un animale mansueto si possa trasformare anche in un animale aggressivo. Quindi occorre avere tutte le precauzioni. Mango invece dà atto alla popolazione di aver accettato con grande disponibilità le innovazioni previste dal nuovo regolamento di polizia urbana, quale quella di portare con sé una bottiglietta piena d'acqua per pulire, insomma, quando gli animali fanno quelle cose nei muri e nelle fioriere e soprattutto la metratura del guinzaglio di un metro e mezzo. Quindi c'è un certo rispetto a questo proposito. Vediamo anche le altre notizie. Ieri si è tenuta una manifestazione della pandolfaccia all'interno della corte malatestiana. Una manifestazione abbinata alla mostra dei registri malatestiani che è stato il vero evento culturale di questo inverno. Un evento culturale che ha attirato persone anche da altre regioni. I registri malatestiani sono circa un centinaio e costituiscono veramente un tesoro unico, una testimonianza unica dell'epoca medievale che è conservata nell'archivio fanese dell'archivio di Stato. E c'era anche l'assessore alla cultura in questa manifestazione. La pandolfaccia ha eretto un accampamento medievale all'interno della rocca malatestiana e l'assessore alla cultura ha un po' pronosticato quale saranno le trasformazioni di cui saranno oggetto proprio la corte. Una corte che dovrà fare da tre d'union tra la piazza 20 Settembre e i giardini leopardi. Un polo urbanistico che dovrà porre in contatto queste due situazioni urbanistiche che ora vivono una vita autonoma e che invece coordinandosi potranno creare tutti insieme un polo di attrazione di notevole interesse. Così ha dichiarato. Giriamo la pagina e andiamo a Cantiano. A Cantiano la macchina comunale è ancora al collasso dopo quanto è avvenuto, dopo l'alluvione. A Cantiano danni per 70 milioni, una cifra considerevole per un piccolo centro. Il sindaco Alessandro Piccini ha segnalato le criticità a quattro mesi dall'alluvione nel contesto di un'assemblea pubblica che si è svolta con la partecipazione del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Il Governatore ha assicurato che ci saranno presto i provvedimenti, ma il problema è le lungaggini burocratiche. Infatti i provvedimenti, pure storicamente eccezionali, i finanziamenti sono quelli di 200 milioni per il 2022 e altri 200 per il 2024 sono ingabbiati nelle regole di una burocrazia a tutela dell'interesse collettivo. Spesso la tutela si trasforma invece in disagio perché i tempi poi si dilungano. Ed ora passiamo anche ad una notizia di sport e vediamo come per quanto riguarda il calcio nei campionati più elevati tutte le squadre della provincia di Pesaro-Urbino. Le squadre tutte, insomma, sia la Vis che l'Alma, ci freniamo a queste due, hanno avuto un buon risultato. Ecco il titolo che appare sul Corriere Adriatico. Visse una vittoria d'oro. Di Paola e Ngom firmano il successo contro l'Olbia. Risultato è Pesaro 2, Olbia 1. I biancorossi finalmente escono dalla zona dei play-out. La Stella Ragazzo e il brasiliano Emerson non mettono paura ai pesaresi. Attenti fino alla fine di gestire al meglio questo risultato fino allo scadere del novantesimo minuto. Bravi a non mollare, ha detto Brevi. Vinto uno spareggio, ma di partite così complicate ne troveremo tante altre andando avanti. Il tecnico della Vis ora finalmente può respirare dopo i risultati negativi delle precedenti partite. Questa vittoria ci consente, ha detto, di migliorare tante situazioni. Vediamo anche come il resto del Carlino riporta la notizia. Vis che vis, dice il titolo, torna il sorriso anche in casa. Biancorossi dominano il primo tempo, apre le danze di Paola. Cinici nel secondo, insomma pragmatici. Raddoppio di Ngom, Olbia, K.O. nonostante il sussulto saldo all'ottantacinquesimo, quando anche gli ospiti hanno segnato un gol e quindi un risultato che però alla fine non è venuto. Anche il Fano ha avuto di che gioire. Fano Super, che rinascita alla capolista, si arrende. L'Alma reduce da 3 K.O. di fila, si conferma la bestia nera del Pineto. Pineto che aveva vinto nel girone di andata ed ora ha vinto ancora l'Alma per quanto riguarda il girone di ritorno. Già battuto appunto all'andata, Pineto 0. Fano due bei gol. L'Alma si rialza dopo 3 K.O. di fila, confermandosi la bestia nera dell'indiscussa capolistica, capolista Pineto, che aveva perso l'unica volta in stagione a Fano prima di questo tonfo. Insomma, il Pineto è in alto, però Fano ha saputo ridimensionare appunto le aspettative di questa squadra abruzzese. Abbiamo saputo rispondere con i fatti, l'orgoglio di Mosconi, bravi i miei ragazzi a riuscire a ritrovarsi. E vediamo anche altre partite. L'Azzurro Colli piazza il colpo per l'Urbino e brutto stop. Accade tutto in questa partita. Urbino 1, Azzurro Colli 2, purtroppo. Accade tutto in 5 minuti. Fiorelli risponde a Gesuè. Poi il gol decisivo di Ciavuschi e per l'Urbino, insomma, non è andata molto molto bene. Vediamo invece il Fossombrone. Il Fossombrone le prova tutte. La San Giustese regge l'urto. Questa partita è terminata 0-0, quindi con un nulla di fatto. I Rosso-Blu si fermano in casa. Grande prova dei calzaturieri, ovvero la San Giustese, in dieci uomini nella ripresa. Invece Fermignano. Fermignano, la Fermignanese blizza a sorpasso al Valfoglia. Valfoglia 0, Fermignanese 2. Il risultato che si è ottenuto in questa partita ci sono state anche delle proteste dei locali per un rigore dato allo 0-1. Il raddoppio è a firma di Cusimano. Vediamo ancora altre notizie per lo sport. Passiamo al basket. La WL c'è e nel finale Scafati va a K.O. Un bel risultato per il Carpegna Prosciutto che vince con 81 canestri il Givova. Con 81 punti, ovviamente, il Givova che si ferma a 69. Il Carpegna Prosciutto piazza un break dei 13 a 0 grazie a Gudmutzon e Visconti. Un match di grande maturità. È il secondo titolo di un articolo che commenta appunto la partita. La Megabox dura solo un set. Valfoglia si aggiudica il primo parziale, poi però deve cedere alla potenza d'attacco di Scandicci. Il risultato, questa volta Scandicci 3, Valfoglia 1. Una partita che il Valfoglia ha perso in casa. Mentre la Vigilar strappa un bellissimo risultato a San Giustino. Inizia male. La Vigilar perde il primo set, poi reagisce e manda al tappeto la squadra Umbra. Fano strappa la vittoria dopo quasi due ore di battaglia agonistica. Il risultato San Giustino 1. Fano 3. E la Vigilar mantiene saldamente il suo posto in classifica. Ebbene, abbiamo fatto una panoramica per quanto riguarda lo sport. Ora diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi del Corriere Adriatico. E vediamo come ancora l'aumento del caro vita, desti grandi grandi difficoltà. Non è finita. Fino adesso il caro vita è ancora aumentato, ma aumenterà ancora fino a primavera. E qui purtroppo abbiamo le fosche previsioni che si fanno per quanto riguarda i prossimi mesi. Il peggio ormai alle spalle? No, l'incubo non finisce qua purtroppo. Materie prime, bollette dai fornitori agli esercizi commerciali. Una primavera di aumenti. Questa purtroppo è la brutta notizia. Il latte. Il latte è arrivato ad una confezione per 1,20 euro. Costava meno di 1 euro fino a poco tempo fa. Lattecini e formaggi per pizzerie e ristoranti superavano un aumento medio del 3%. L'olio da cucina, l'aumento praticato dai grossisti sarà del 20%. Una percentuale veramente importante. E poi aumenta anche la carta da cucina. Aumentano le tovaglie del 7-8%. Le bollette del gas non ne parliamo. In arrivo per ristoranti e bar sono già aumentate di circa il 300%. Veramente qui non si riesce più a vedere la fine di questi aumenti. Chissà se veramente tutto dipende dalla guerra in Ucraina oppure c'è qualcuno che specula veramente su queste bollette. In difficoltà anche la marineria fanese. Situazione di non ritorno e non rischia solo la pesca. Il portavoce del gruppo pesca di Fano, Tonino Giardini, evidenzia tutta la filiera della Fano marinara e a repentaglio. L'aumento indiscriminato del carburante colpisce non solo gli automobilisti e gli autotrasportatori ma anche la marineria che nel costo del gasolio individua la maggior spesa d'azienda. E quindi ormai non conviene più, non conviene più perché non si fa pari praticare questa attività. Troppo divario tra le spese e le possibilità di guadagno. E questo è un articolo che purtroppo evidenzia come sia profonda la crisi di questo settore. Veniamo ora ancora a Pesaro per la ciclabili di Via Fratti, ok al cantiere entro febbraio, però non sarà ripristinata la circolazione in strada Carloni. Belloni dice che la situazione è gestibile, anche se nel frattempo strada Carloni non sarà ancora ripristinata la circolazione. Ormai possiamo dire con certezza che la chiusura di strada Carloni non comporta particolari problemi della viabilità, ha detto l'assessore Belloni. E allo stesso tempo il cantiere per la ciclabili di Via Fratti non comporterà chiusura delle corsie e quindi potremo gestirlo bene. Questa appunto è l'espressione ottimistica dell'assessore in merito a questi lavori pubblici. Borgo Pace, strada ancora franata, da Carpegna i fondi sono in arrivo, speriamo che arrivino veramente, arrivino presto. Vediamo qui la strada bloccata dal movimento franoso, una strada imbiancata dalla neve perché proprio in questi giorni le vette dell'Apenino Marchigiano si sono imbiancate. E questo comunque è l'appello dei residenti della frazione di Dese che questa strada, per cui questa strada è importantissima per tutte le comunicazioni. I residenti chiedono la collaborazione tra tre amministrazioni. Sono veramente tre i comuni interessati al ripristino di questa viabilità. Purtroppo ancora un nulla di fatto. Qui ad Ese e con la neve in arrivo abbiamo di che preoccuparci, hanno detto i residenti. E invece sono in allarme i residenti dei quartieri pesaresi dove si stanno installando le nuove antenne per la telefonia mobile. Antenna 5G, il braccio di ferro finisce al Tar, ma il gestore ha già ultimato l'installazione. Ebbene le ditte della telefonia mobile non stanno lì a guardare. Sanno che la legge è dalla loro parte e quindi in qualsiasi modo vanno avanti con i lavori. A Novilara è partita anche una raccolta di firme. Il tentativo è coinvolgere l'intero quartiere. Ma vediamo questa fotografia. La fotografia, la didascalia dice l'antenna della discordia installata a Novilara. Ma a guardare bene, qui di antenne non se ne vedono. In realtà l'antenna c'è ed è un'antenna camuffata da albero. Non si vede però c'è. Forse l'estetica non ne risente, però ne risentano le radiazioni ed è questo che preoccupa appunto i residenti dei quartieri vicini. Giriamo ancora la pagina. Siamo ad Urbino. Seconda migliore meta turistica visitali nel 2023 lancia Urbino. Esaltate le caratteristiche di cuore del rinascimento italiano, l'assessore Cioppi commenta. E questo è un grande momento per la città ducale. Ebbene, la città di Urbino è stata segnalata come la seconda meta consigliata per il 2023 da Visit Italy, portale di viaggi per scoprire l'Italia più autentica. Il portale propone consigli per visitare il nord, il centro e il sud Italia, promuovendo gemme nascoste, sono veramente delle gemme alcuni territori della nostra penisola, promuovendo gemme nascoste, dando consigli su come raggiungere le varie località e fornendo indicazioni per i principali luoghi da visitare. Ebbene, al primo posto ha posto la Sardegna, secondo posto ha messo Urbino. Urbino, città meravigliosa, città ducale, città rinascimentale, tutta da visitare. Quindi una bella promozione appunto per il nostro territorio. A questo punto abbiamo esaurito la lettura del Corriere Adriatico e vediamo di riprendere quella del resto del Carlino, a partire dalla prima pagina dove si sintetizza un po' tutto quello che contiene l'inserto regionale. Per quanto riguarda Pesaro, vediamo che si evidenzia l'incidente che si è verificato in superstrada, pensionato, travolto e ucciso da un'auto. Tragedia all'altezza dello svincolo di Fossombrone. Il conducente pensava di aver investito un animale, un cinghiale, prima abbia visto pure un capriolo. E poi per quanto riguarda Pesaro si evidenzia come ci siano ancora molti alloggi dell'ERAP che sono pronti, che sono allestiti, ma che ancora non vengono consegnati ai loro richiedenti. E poi a Pesaro ancora un'indagine sul carburante. Costa meno il pellegrinaggio per andare a rifornirsi a San Marino. Poi vedremo com'è questa vicenda. Vediamo anche le altre province. A Macerata i carabinieri sventono il furto ad un ristorante, scattano tre denunce. A Civitanova SOS maltrattamenti, 26 donne ospite di comunità protette. A Macerata il presidente dell'APM bisogna rivedere il piano dei trasporti. Ad Ancona invece abbiamo la corsa per il sindaco. Abbiamo un articolo di carattere politico in vista delle prossime elezioni. La corsa per il sindaco, debutto con Bagarre. Ed è il Partito Democratico che boccia Silvetti. E il tipico candidato berlusconiano hanno dichiarato. Ciccioli di Fratelli d'Italia, pensate alle vostre spaccature. Batti e ribatti tra il PD e ciccioli. Ad Ascoli ladri svaliggiano l'appartamento della dottoressa Tiziana Principi, bottino di gioielli. E poi un barista in nero e clandestina, titolare nei guai, spunta la droga. Controlli a Porto Santo Elpidio. Affermo la sfida di Ceroni. Nuovo deposito e stop ai debiti. Rilancio la Steat. E ancora ad Ascoli il piano di Fioravanti, scuole, fortezza e ponte di Cecco, lavori avanti tutta e via al cantiere in piazza Diaz. Adesso si parla di lavori pubblici. Apriamo il giornale. E vediamo l'articolo che riguarda il caro benzina. Ebbene, alcuni automobilisti preferiscono andare a fare il pieno a San Marino, dove si paga tra i 20 e i 35 centesimi in meno. Io mi sono chiesto, quando ho letto quest'articolo, se vale la pena fare 50 chilometri per andare a San Marino, 50 chilometri per risparmiare 23 o 20 o 30 centesimi al litro. Mi sembra che la situazione non valga, anche se a San Marino veramente la benzina costa meno. Non è che costa meno perché c'è una differenza tra i prezzi applicati dallo Stato di San Marino rispetto allo Stato italiano, ma sono sconti che fanno direttamente i gestori degli impianti di carburante, perché i patti tra Italia e San Marino dicono che la benzina deve costare allo stesso modo. Poi ovviamente il gestore si regola per conto suo. Comunque vediamo, con la SMAC Card, la carta sconti, ne guadagnano altri 5 o 6 centesimi. Si parla ovviamente di centesimi. Qua invece abbiamo l'articolo che riguarda gli appartamenti ERAP non consegnati. Sarebbero addirittura 315 questi appartamenti che aspettano di essere dati a coloro che li hanno richiesti. Sono oltre 400 in lista, quelli che non hanno in questo momento una casa decente, però non sono consegnati perché ci sono dei ritardi di carattere burocratico. E tra questi anche gli appartamenti di Palazzo Aimonino, che sono pronti da un anno, ma non sono stati ancora consegnati per un contenzioso. E qua abbiamo l'articolo che riguarda l'incidente sulla superstrada, di cui abbiamo già abbondantemente riferito. Era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7. e come sempre per le notizie del giorno alle ore 20.30 al TG Occhio alla Notizia di questa sera. Grazie per l'ascolto. A risentirci.